Credo che dovrò fare un'altra chiacchierata con quel prete, ma questa volta gli parlerò della crocifissione. Venite tutti qui! Avanti! Questa sera la morte in pubblico del pastore Jones sarà una vera e propria chiamata alle armi. Dovranno prenderne armi. Ha un profumo magnifico. Mettilo sul bancone. Tutto sul bancone, grazie. Prova, prova uno. Ma che state combinando? Non sapete neanche costruire una croce. Leggete il manuale. E questa sera una pioggia di sangue spegnerà le fiamme. Andate avanti. Sì, signore. Alla fine, agli ordini. Muoviamoci. Deve essere quell'edificio laggiù. Sembra che ci siamo stavolta. Carlos, pensa a quello. Trivet, vai a destra. Io entro dal retro. Al, Hitler! Al, Hitler! Al, Hitler! Passami il grasso. Guarda, è un gioiello. Non vedo l'ora, ragazzi. Texas Ranger! Fermi! Ma chi ha fatto? Non muovetevi! Sta fermo. Mettete le armi per terra. Va bene, va bene. D'accordo, d'accordo. Calmo, calmo. Ce n'è abbastanza per rifornire un esercito. Quello è un pezzo forte. È l'arma che hanno usato per Rodney Summer? Stesso calibro. Dove sarà Gorman? Questa è una bella domanda. Abbiamo cantato per tutto il visaggio, sì. Prego, entrate. Grazie per essere venuti questa sera. È una buona causa, una buona causa. Oh, Ben, se continuiamo così riavrai la tua chiesa in pochissimo tempo. Grazie, Rosco. Non so proprio cosa dire. Puoi dire alleluia. Alleluia! Grazie. Va bene, vi prego. Signore e signori, diamo il nostro caldo e affettuoso benvenuto, come solo la gente del Texas a fare, a un amico che ci aiuta nel momento del bisogno. Colin Ray! Grazie. È un piacere. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti Tres, cosa c'è? Spero che non sia niente Ne abbiamo già visti abbastanza in questi giorni